Ormai ci siamo. Ancora due giorni lavorativi, oggi e domani, poi dopo il weekend si inizia con l'avventura del nuovo anno scolastico. La ministra è fiduciosa, il presidente Conte la sostiene e anche il PD, che fino a non molti giorni fa esprimeva diverse perplessità sull'operato di Lucia Zolina, adesso sembra assai meno battagliero. Il fatto è che fra una decina di giorni si dovrà votare e le forze di governo sanno benissimo che anche il più piccolo screzio interno al governo stesso non farebbe altro che avvantaggiare le opposizioni e la Lega in particolare. Sulla scuola Conte ha deciso di giocare tutta la propria credibilità ed è anche per questo che nelle ultime ore ha continuato a ripetere che sulla riapertura al 14 settembre non c'è proprio da discutere. Nei giorni scorsi, nell'arco di 24 ore, la ministra si è presentata per due volte in Parlamento per riferire sulla situazione. Martedì ha incontrato i senatori della Commissione Cultura, mentre mercoledì è stata audita nell'aula della Camera. In entrambi i casi è stata l'occasione per rivendicare con forza i risultati raggiunti, seppure in un contesto difficile e certamente molto poco favorevole. Le risorse stanziate per la ripresa, ha ricordato Azzolina, sono tante e rappresentano una inversione di tendenza significativa rispetto alle politiche passate. E su questo punto alla Camera è stata difesa persino da Nicola Frattoianni della componente più critica della maggioranza. Il deputato Di Leu ha rilevato infatti che più di tanto sarebbe stato difficile fare, anche se poi ha dovuto ammettere che in materia di reclutamento dei docenti forse si poteva fare qualcosina in più. A proposito dei banchi che stanno arrivando nelle scuole molto lentamente, la Ministra è stata un po' evasiva, ma ha ricordato che comunque era da decenni che nelle scuole italiane non si rinnovavano gli arredi. Il Presidente Conte, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche Azzolina e il Ministro della Salute, Speranza, ha toccato il problema della misurazione della temperatura degli alunni. Se ne dovranno occupare i genitori, ha detto. Ma proprio nella serata di mercoledì è scoppiata la grana del Piemonte, dove il Presidente regionale ha ordinato alle scuole di attrezzarsi per provvedere in proprio, a meno che gli alunni non presentino una adeguata documentazione sottoscritta dai genitori. La decisione del Presidente del Piemonte è stata criticata dallo stesso direttore dell'ufficio scolastico regionale, Fabrizio Manca, che parla di iniziativa tardiva e inappropriata e aggiunge che l'ordinanza potrebbe creare confusione perché cambia le regole dettate dal governo senza valutarne gli impatti. Intanto non è ancora per nulla chiaro cosa dovranno fare le scuole se un alunno dovesse risultare positivo al Covid-19 e c'è anche un altro problema. Se si riscontra che un alunno ha la febbre o altri sintomi di natura influenzale deve essere allontanato da scuola, ma non è ancora stato spiegato esattamente quale procedura seguire per riammetterlo in classe. Fra le prese di posizione di questi giorni va segnalato anche il comunicato stampa a firma di quattro importanti associazioni, CD, MCE, Legambiente, Proteo, che chiedono che nel decidere le misure per il rientro si eviti di far prevalere le ragioni sanitarie su quelle educative. Le associazioni sottolineano anche la necessità di agire sulle disuguaglianze con interventi mirati soprattutto nelle aree dove maggiori sono le povertà educative e di considerare la didattica a distanza solo per l'emergenza in modo da garantire a tutte e a tutti una scuola in presenza. Richieste di assoluto buonsenso, vedremo se saranno tenute nella dovuta considerazione. Questo ovviamente è il tema del giorno, del momento, su cui noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Soprattutto continuate a scriverci, a mandarci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto.